E tra l'altro questo qui sarà anche una breve presentazione del canale Comunque in questo canale troverete top 10 recensioni, informazioni riguardo il mondo di videogiochi e il mondo della musica E tra l'altro, non so se voi... E benvenuti qui in questa prima reaction musicale del canale Applausi, perché questa qui appunto, la prova che come io vi ho detto prima, lui sa fare quel che cazzo gli pare Oggi noi parleremo di un album che, devo essere sincero, mi ha veramente sorpreso E' l'album di Junior Kelly, il suo secondo album in studio Junior Kelly è un rapper italiano della nuova scuola che secondo me è uno tra i più forti in assoluto Di singolo, di fibra, visto che noi abbiamo già visto fibra effettivamente su basi trap Noi abbiamo visto una base trap in Yoshi, in Star Wars con appunto Massimo Pericolo Praticamente questa qui è una traccia molto molto celebrativa Visto che già dall'inizio si capirà un po' che avrebbe parlato molto molto più di lui Poi è anche bellissimo il vittoriano di Franco 126 La speed track più famosa al mondo E la speed track preferita di tutti Se comunque io l'altra volta l'avevo calcolato Magari più avanti diventeremo sempre più grandi e sempre più ottimi Ma oggi però vi voglio parlare di una cosa Ovviamente dell'annuncio che io avevo citato 5 secondi fa Il mio canale è sempre stato così Un video a settimana Ma probabilmente dai 600 iscritti in poi Le cose probabilmente cambieranno Soltanto l'annuncio Non createvi da soli delle aspettative Che magari poi alla fine non verranno rispettate Aspettate che esca e non fatevi viaggi mentali Su come potrebbe essere questo progetto Su una traccia in particolare Che ha debuttato se così possiamo dire Quest'artista chiamato Knight Che il suo vero nome è William Mezzanotte E la traccia in questione si chiama appunto Gli occhi della tigre Innanzitutto mi voglio scusare con molti di voi Se per caso questo cuore vi sembra uno speciale Per i 1000 iscritti molto molto corto Però dopo tutti i cambiamenti che ho avuto il canale A livello qualitativo e anche a livello di iscritti Non posso fare altro che deliziarvi con questa frase Ovvero Vi ringrazio di cuore Grazie a tutti Grazie a tutti